Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un pomeriggio molto animato per Caterina Balivo durante la trasmissione La Volta Buona, quando ha avuto l'opportunità di intervistare la celebre cantante Katia Ricciarelli. La conversazione ha preso una svolta inaspettata che ha creato un momento imbarazzante in studio. Da un lato, sono emerse alcune dimenticanze da parte della conduttrice riguardo alla preparazione dell'intervista, mentre dall'altro, la stessa Ricciarelli ha reagito in modo un po' brusco. Durante la conversazione, Katia Ricciarelli stava condividendo i dettagli dei suoi due grandi amori, José Maria Carreras e Pippo Baudo. Caterina Balivo ha commesso una gaff chiedendo alla Ricciarelli perché non si fosse mai sposata con il tenore nonostante la loro relazione travolgente. La Ricciarelli ha prontamente ricordato alla conduttrice che Carreras era già sposato quando erano insieme, mettendo in evidenza il suo errore. Caterina Balivo ha prima risposto con una risata nervosa, poi ha cercato di rimediare, ma ha ottenuto solo di irritare l'ospite. «Ah, allora tu eri l'amante», ha constatato Balivo, causando ulteriore tensione. La Ricciarelli non ha gradito affatto questa definizione. E ha risposto con disappunto, «Ma come ti permetti», aggiungendo con fermezza, «Io ero l'amore della sua vita». Questo scambio è stato oggetto di critiche, sottolineando l'importanza di una preparazione adeguata per le interviste e che se si sta intervistando un ospite, informarsi è il minimo.